Oggi siamo con Lorenzo Giavenni, responsabile pianificazione commerciale e sviluppo rete di Arcafondi SGR. Qual è il bilancio della vostra società sul fronte peer nel 2018? Il 2018 sta andando molto bene, quindi conferma le tendenze del 2017, meno entusiasmo direi, chiaramente il 2017 il prodotto era appena nato, c'è stato molto clamore sui media, molta performance, il mercato molto in trend, il mercato italiano. Quest'anno meno entusiasmo, però sta andando molto bene perché vediamo una raccolta molto buona, quasi agli stessi livelli del 2017, anche se inferiore come in generale tutto il comparto del gestito. Vediamo tanti nuovi clienti, questa è una tendenza che continua dal 2017, quindi tanti nuovi clienti che si approcciano al mondo del risparmio gestito proprio per effetto del peer, direi che questo è uno dei migliori risultati della novità peer. Poche uscite, pochi clienti che hanno deciso di uscire magari dopo aver fatto performance che nel 2017 sono state ottime e tanti clienti già a fine agosto, tanti clienti che avevano già aperto un conto peer nel 2017 che hanno confermato di rinnovare, di fare il secondo investimento per il 2018. Le percentuali sono molto alte, diciamo sotto il 50% ma molto alte, quindi questi per noi sono tutti indicatori molto, molto positivi su questo nuovo segmento che è ancora nuovo, quindi ha ancora ottime possibilità di crescita. Su quali tipologie di fondi si sono maggiormente indirizzati i vostri investitori? Allora, diciamo che chiaramente l'investitore opera nel contesto di un portafoglio adeguato in base al suo profilo di rischio. Da questo punto di vista il nostro prodotto per eccellenza sia nel 2017 sia nel 2018 è stato il fondo bilanciato, quindi il fondo che non fosse troppo esposto sull'azionario per ovvi motivi. Il nostro prodotto core nel segmento peer si chiama ARC Economia Reale Bilanciato Italia 30, quindi è un fondo che ha una percentuale media di azionario intorno al 30%. Si capisce perché è il prodotto preferito, è il classico prodotto bilanciato che può essere portato avanti per tanti anni con una combinazione ottimale di bond ed equity che non subirà mai troppi scossoni qualora i mercati azionari dovessero avere anche un trend negativo, quindi è il prodotto più o meno perfetto per la stragrande maggioranza dei clienti, dei risparmiatori. Ed è qui che abbiamo concentrato i nostri clienti, vediamo che l'interesse si concentra qua, pur avendo noi in realtà sia dei prodotti completamente azionari in classe peer, sia dei prodotti bilanciati ma con meno componente azionaria, ma tuttavia vediamo che per il momento l'interesse rimane concentrato sul bilanciato 30.